Ciao a tutti! Oggi vi faccio notare una cosa curiosa. Questo è un campo di erba medica appena seminato e vedete questa erba, questa pianta parassita gialla? Questa è un'erba parassita che mangia l'erba medica. Adesso così non si vede tanto ma ci sono proprio in mezzo al verde queste chiazze gialle che pian piano cresce e va a mangiare l'erba medica.